Le piccole realtà aziendali, incluse le imprese artigiane, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, rappresentano una componente rilevante del sistema produttivo italiano. Per questo motivo il censimento permanente coinvolge circa 150.000 imprese di dimensione ridotta, pari a circa il 54% del campione che hanno meno di 10 addetti. Queste sono rappresentative anche di molte altre realtà non incluse del campione e pertanto la loro partecipazione attiva è fondamentale per la buona riuscita del censimento. Nella prospettiva di semplificare l'impegno richiesto alle imprese di minore dimensione, l'Istat ha adottato un insieme di soluzioni mirate. La prima riguarda la predisposizione di una versione semplificata del questionario, denominata short form, con un percorso di compilazione ridotto che esclude un insieme di quesiti destinati esclusivamente alle imprese di maggiore dimensione. La seconda comporta l'ottimizzazione del questionario in un'ottica user-friendly grazie alla formulazione di quesiti e percorsi di compilazione mirati. L'Istat ha previsto, infine, un servizio gratuito di assistenza e supporto, mirato a rispondere alle diverse esigenze degli utenti attraverso canali e livelli di specializzazione. Le nuove soluzioni rendono gli utenti più autonomi e più veloci nello svolgimento dell'adempimento richiesto, riducendo il ricorso a eventuali supporti esterni, quali consulenti e o commercialisti. Inoltre, si riducono i tempi e le risorse da impiegare per l'accesso e la gestione del portale Statistica Imprese, la piattaforma predisposta dall'Istat per l'acquisizione dei dati e per la compilazione del questionario online.